Eva Guardiani, qual è la valutazione politica dal riaccertamento straordinario dei residui? Quello che esce fuori dai dati che comunichiamo oggi e che comunque diciamo quello che è il disavanzo che c'è o comunque la somma che esce fuori da questo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, quindi somme anche che risalgono alla notte dei tempi che sono state naturalmente accantonate, che non possono essere più considerate nel nuovo bilancio secondo i nuovi principi, una somma pari a 27 milioni di euro che comunque il Comune di Teromo dovrà ripianare in 30 anni. La valutazione è che già il legislatore che nella prima stesura aveva previsto un termine di 10 anni, il fatto che abbia aumentato fino a 30 anni questo termine già fa capire che tutti gli enti sono in grande difficoltà, perché comunque parliamo di somme importanti che escono fuori da questo riaccertamento. Gli uffici, ogni settore naturalmente con il coordinamento del servizio finanziario ha dovuto predisporre, fare un'analisi di tutti i residui attivi e passivi naturalmente valutando anche l'esigibilità degli stessi. Quindi ci sono dei crediti che il Comune vanta nei confronti di terzi che sono assolutamente inesigibili, difficilmente recuperabili che quindi vanno a far parte di un fondo che obbligatoriamente dobbiamo costituire e così anche attività, la programmazione.